...un altro...un 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 altro...pronto? Sì, ti parla? Ah, chiarissimo, ma sai dove sono io a Torino? Com'è il tempo giù? Ma dai, ma dai, qui fa un freddo, c'è la neve, la neve, no, la neve no, sono freddo che ci sia, comunque... Fa un freddo, anche lì, giù. Ah, ecco, no, io purtroppo adesso non riusciamo a incontrarci in questi giorni che sono a Torino, mi parte di Brillo. Però tu e mi hai mandato un email, visto che adesso io sono con un amico che stiamo pagando il peso, non sono in amministrazione... Sì, c'è un po' di caos, scusa, scusa, scusa solo un secondo, scusa solo un secondo. Senti, di fare nulla, ti chiedo anche una seconda classica di lei del tuo connesso. allora senti, scusa ti ringrazio per la disponibilità che ho iniziato per YouTube io ti faccio e sei tu che mi ammettano l'email, vero? ecco, scusa, aspetta due minuti parte il treno allora ci risentiamo con caldo, ok? scusali, 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 scusali un bacio, ciao, ciao, ciao ciao